L'Italia esce dalla crisi se investe sulla principale risorsa inespressa di questi anni, i suoi giovani, i giovani cui sono stati legati tutti i diritti, il diritto allo studio, il diritto all'autonomia, il diritto a restare nel proprio paese e a realizzare i propri sogni qui. Il prossimo Parlamento probabilmente sarà uno dei più giovani della storia della nostra Repubblica. Anche attraverso la primaria ci siamo ripresi il nostro protagonismo e è da qui che riaffermeremo i nostri diritti.